Salve a tutti da Sandrot, Alessandro Tuveri in arte Sandrot, vi saluto cordialmente a tutti, sto postando questo video appunto per farvi, mettervi a conoscenza, scusate, per mettervi a conoscenza che stiamo andando bene col canale, abbiamo raggiunto oltre i 1250 iscritti, la musica sta andando bene, vi ringrazio di avere questo seguito di persone, ascoltate sempre le mie canzoni e sarò molto contento di voi, se c'è qualcosa, penso che abbiate gradito, visto l'audienza raggiungo circa 110-120 ascolti in meno di due giorni, per un cantautore è un traguardo importante, io sono presente anche alla NCG TV Television Web Nova TV, TV Web Online, ho affrontato due interviste online alla televisione, una alla televisione di Fiumicino e una alla radio di Teramo mi pare, adesso non ricordo bene, e voglio ringraziare Massimo della Magilla Spettacoli che mi sta aiutando in questo mio percorso, stiamo facendo un percorso assieme molto importante, molto interessante, la Nino Records con il maestro Nicola Ursino, e niente, volevo mettervi a corrente che gli iscritti non sono più 92 come il video precedente, ma ben 6.252 esattamente, e continuate a seguire le mie canzoni, il percorso non è più acustico, ma come avete visto, si è acustico con la chitarra, ma con gli accompagnamenti, i vari arrangiamenti, sempre live, e io sono la chitarra e canto live, e poi vedo di arrangiare e armonizzare un po' la canzone, armonizzare significa per i non vendete a lavoro, e mettere gli accordi, i vari arrangiamenti, i violini, gli archi, insomma tutto, e vi ringrazio tanto, e vi saluto molto cordialmente, e continuate a iscrivervi al canale, un grazie e un abbraccio da Sandrot.